Bruzzese, ma sono fiera di essere bruzzese, quindi cerco di non perdermi. Noi abbiamo voluto sostenere questa cosa in seguito ad un incontro fortuito. Noi facciamo spesso fiere e abbiamo incontrato la persona giusta al posto giusto. Il progetto ci è piaciuto moltissimo perché ha sposato il nostro progetto, nel senso che noi stiamo cercando di fare come azienda un made in Italy puro e stiamo cercando di sostenere che il made in Italy ha una marcia in più nel mondo perché è intriso di cultura. Noi ci portiamo nei nostri cromosomi, cultura, tradizioni, storie, in qualsiasi senso, dall'agroalimentare a tutto quello che possono essere le nostre conoscenze. Abbiamo la presunzione di credere che nei nostri prodotti c'è questa cultura e quindi diciamo che non voi servite a noi. Noi cerchiamo di fare quanto è possibile con il momento drammatico che stiamo vivendo dal punto di vista economico. Sono poche le entrate e quindi possono essere poche anche le uscite. Però per quello che possiamo fare davvero con il cuore. Grazie a voi.